Forte Falcone è stato aperto nei giorni scorsi per i turisti ancora numerosi in questo periodo, ma non solo a loro. È partita, lo scorso fine settimana, un'iniziativa a titolo sperimentale. È stata data la possibilità alle scuole di cominciare a visitare il Forte e i suoi spazi segreti fino a poco tempo fa. La prima visita è stata fatta dagli studenti di alcune classi del liceo foresi accompagnati dalle guide turistiche. L'iniziativa ha avuto un grande successo, i ragazzi sono ovviamente entusiasti di questo posto che hanno scoperto all'interno della città di Portoferraio e ci auguriamo di poter coinvolgere in queste visite anche tutte le altre scuole che sono presenti sul territorio non solo di Portoferraio, ma se vorranno ospitiamo anche le scuole degli altri comuni. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con le dirigenze scolastiche per coinvolgere nel progetto altri istituti. In merito ovviamente ai nostri studenti stiamo pensando di creare un progetto in sinergia con la cultura per dare la possibilità a alcune classi che lavorano ovviamente, è inutile mandare i bimbi più piccoli, quelli che sono specializzati e che stanno studiando anche dal punto di vista storico questo tipo di percorso, di dare la possibilità di venire proprio qui alle fortezze. Quindi nei prossimi giorni io direi anche di convocare le dirigenti scolastiche e vedere di fare a campione, di portare sperimentalmente sempre delle classi qui nelle nostre fortezze.